Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video da Credendario. Oggi sfidona, moto elettrica contro moto termica. Vi presento intanto Michele che presenterà la sua moto. Ciao, sono Michele, questo è un Yamaha MT125 del 2020. Pezzo della moto? Peso della moto 138 kg. Peso tuo? 63. Ok, mentre qua vediamo una Timbot Motard, quindi 5 kW di motore, 11 di picco, peso 120 kg, 119 kg e il mio peso 65 kg. Ok, facciamo un video con una partenza da fermo, arriviamo fino al fondo del piazzale e vediamo chi lo spunto di più. Ovviamente quello è lungo, va di più perché fa quasi 130 all'ora, mentre questi siamo 105. Ok, ci prepariamo, andiamo sul piazzale. Ok, ragazzi, allora le moto sono messe laggiù, adesso le mettiamo bene. Quindi il primo che taglierà all'incirca alla fine dei due rimorchi, ok? Panoramica moto. Siamo pronti. Elettrico contro, sentite, termico. Ok, 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, via! Grazie a tutti.